Ci siamo, siamo pronti per partire con la nuova edizione di Traguardo Lavoro, la trasmissione che vuole avvicinare la domanda di lavoro all'offerta di lavoro. Traguardo Lavoro è su Rete 8 ogni lunedì alle 20.30, in sinergia con il quotidiano Il Centro. E intanto voi potete inviare il vostro video curriculum a traguardo-lavoro-rete8.it 30 minuti per parlare di lavoro ogni lunedì alle 20.30 su Rete 8. Vi aspetto!